Un vento trenta gradi sotto il zonero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili. A tratti come raffiche di mitra, disintegrava i curi di neve. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi, le vecchie coi rosari. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi, le vecchie coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messe e uscissero il don. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Lyszynski. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti rossi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti rossi. L'inverno con la mia generazione, le donne in curve sui telai vicino alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Agnieszki, per caso mi incontrai Igor Stavinsky. E gli orinali messi sotto i letti per la notte è un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E gli orinali messi sotto i letti per la notte è un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E studiavamo chiusi in una stanza la luce fioca di candele e lampade a petrolio. E quando si trattava di parlare aspettavamo sempre con piacere. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.